Giorni decisivi per la Brexit. L'indirizzo, salvo sorprese, pare segnato, ma il modo in cui ci si arriverà avrà il suo peso. L'11 dicembre il Parlamento britannico deciderà se accogliere o meno l'accordo firmato tra Londra e Bruxelles. Il sì è quanto meno improbabile. Theresa May dovrebbe ottenere 320 voti. Una maggioranza che, al momento non ha. Oltre ai lavoristi, all'opposizione, c'è un fronte conservatore frammentato tra chi supporta May e chi vorrebbe una Brexit netta. Senza piegarsi alla mediazione dell'UE. Cosa prevede l'accordo? Il pacchetto che il Parlamento è chiamato a votare è composto da una serie di condizioni base e da alcune dichiarazioni politiche che abbozzano le relazioni future tra Londra e Bruxelles. Ecco quali sono i punti più importanti. La protezione dei diritti dei cittadini UE nel Regno Unito e di quelli britannici nei paesi europei. Una Brexit graduale, con un periodo di transizione fino al 2020, prorogabile per altri due anni. Il versamento di 39 miliardi di sterline, che Londra aveva garantito all'UE per accordi e programmi precedenti al referendum, l'impegno a non istituire un confine fisico ed uganale tra Irlanda, che resta nell'UE, e Irlanda del Nord. Ci sono poi alcuni paletti politici, da dettagliare in seguito. La libera circolazione dei cittadini non ci sarà più, ma i due contraenti dell'accordo si sono impegnati a consentire brevi viaggi senza l'obbligo di un visto. Londra avrà una politica commerciale, indipendente e preserverà l'unità nazionale, un cenno che riguarda soprattutto l'Irlanda del Nord. C'è il proposito di creare un area di libero scambio delle merci, una forte cooperazione per i servizi finanziari, la sicurezza e l'antiterrorismo. Gli schieramenti in Parlamento perché Theresa May non ha una maggioranza? C'è, innanzitutto, l'opposizione di chi si era battuto per rimanere nell'UE. Il sogno è un nuovo referendum, ipotesi molto improbabile ma non impossibile, o una rinegoziazione ancora più soft. Ci sono poi, in direzione opposta, i fautori di un hard Brexit, secondo i quali le condizioni dell'attuale a corso sarebbero troppo morbide. Un nodo particolarmente intricato riguarda la gestione dei confini tra Irlanda e Irlanda del Nord. L'assenza di un confine fisico potrebbe portare, secondo i detrattori dell'accordo, a un distaccamento dell'Ulster oppure lascerebbe. Aperta una porta che, di fatto, non garantirebbe piena autonomia commerciale al Regno Unito. Cosa succede se l'accordo viene bocciato salvo sorprese? La proposta sarà bocciata. Se così fosse, May ha 21 giorni per presentarsi alla Camera dei Comuni e proporre un piano sui prossimi passi. Programma sul quale il Parlamento esprimerà un voto. C'è però di mezzo il Natale. Anche se i 21 giorni scadono alla fine del 2018, è probabile che l'esecutivo stringa i tempi per arrivare alla Camera prima della chiusura festiva. Il 21 dicembre. A questo punto, le strade sono due. Se il programma proposto fosse approvato, si procederà secondo quel che prevede. In caso contrario, il Regno Unito uscirebbe da lui senza accordo il 29 marzo 2019, ultima data disponibile. In teoria, è possibile una proroga, che però Bruxelles non sembra intenzionata a concedere. Londra si ritroverebbe così a dover negoziare piccoli accordi per garantire l'attività quotidiana, in attesa di definire un quadro più organico. Non sarà semplice. Anche perché la bocciatura rimescola le carte politiche, May perderà potere tra i conservatori. Potrebbe resistere a Downing Street. Oppure potrebbe esserci la sfiducia e un cambio alla guida dei tori, e quindi un nuovo governo con la stessa maggioranza. Meno probabili sono le elezioni anticipate. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Rudufort-Niedergrenod, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative. PICT breve.